Oggi siamo a Reggio Emilia per parlare di credito e della sua valorizzazione con Graziano Meloni, che è amministratore delegato e presidente di Manteglia Memar, che è una società fintech specializzata in tecnologia avanzata e sistemi a sostegno di banche e asset manager. Il credito dovrebbe essere una risorsa, un qualcosa capace di migliorare la vita delle persone. In Italia però non sempre è così. Meloni, Manteglia interviene nel settore del credito proprio per questo motivo. Cosa ha la spinta in questa direzione? Principalmente un'opportunità data dalle nuove frontiere tecnologiche, la possibilità che abbiamo oggi di elaborare dati, documenti in una maniera completamente diversa e più approfondita rispetto al passato per dare ai nostri interlocutori, appunto banche e fondi e società di gestione del credito, un patrimonio di dati e di informazioni estremamente più qualificato. Quindi il centro è proprio l'informazione sul credito? Assolutamente. L'informazione è il motore che guida scelte informate, scelte più efficaci, più dirette a un rapporto virtuoso tra le parti. Quindi chi eroga il credito e chi lo utilizza per i propri progetti e le proprie evoluzioni. Come interviene Manteglia nello specifico? Manteglia ha una capacità tecnologica messa a punto nel corso degli ultimi tre anni, questo è quanto è durato fino ad oggi il percorso dell'azienda, di erogare soluzioni software che interpretano dati e documenti con l'ausilio di intelligenza artificiale per completare un quadro informativo sul sottostante credito che ad oggi è piuttosto sfocato perché non è correttamente presidiato per evidenti limiti di tradizione gestionale, operativa che è tipica del mondo del credito. E al servizio che fornite ora si aggiunge un tassello in più, giusto? Corretto. Abbiamo aggiunto alle nostre soluzioni di natura machine learning e intelligenza artificiale adesso una piattaforma di credit management che abbiamo acquisito o chi mi si fa, che si chiama Imola e ci permette di completare un servizio ed offrire sul mercato per la prima volta in Italia un'integrazione tra questi sistemi di estrazione evoluta delle informazioni e un gestionale del credito. Quali sono i benefici che si possono avere proprio dal punto di vista concreto? Si tratta di mettere a disposizione dei nostri clienti un'opportunità di operare delle scelte e delle strategie più informate. Per questo noi abbiamo battezzato un concetto di credito esperto. Non ci crediamo noi che il credito abbia una natura di buono, di cattivo, di giusto o di sbagliato. Spesso intervengono delle inefficienze nel settore che sono strettamente legate al fatto di non avere la possibilità di analizzare puntualmente le situazioni sottostanti. E quindi il credito esperto è proprio questo, è la disponibilità di informazioni, di sintesi, di intelligenza su tutte le situazioni in carico e in gestione, gli operatori bancari o extra bancari del mondo del credito. Chi trae beneficio da questo intervento, cioè da questa maggiore informazione? Il nostro auspicio è che il beneficio sia equamente distribuito tra le parti, quindi il soggetto che è erogatore tanto quanto il soggetto che beneficia del credito, quindi il cliente corporate o privato che sia. In questo senso c'è quasi un valore etico del credito? Assolutamente. Il credito storicamente è sempre stato legato o definito o inventato proprio per generare delle opportunità di evoluzione della società, di crescita, appunto di investimento. Saper dirigere in fase di origination il credito verso opportunità che magari altrimenti sarebbero state non colte è sicuramente una motivazione che ci spinge a fare quello che facciamo. Quindi dare la possibilità a chi eroga il credito di comprendere meglio le opportunità di investimento. E stesso vale più amanti nella filiera del credito, quindi nella gestione di crediti più complessi o che hanno mostrato delle problematicità, mettere a disposizione più informazione, più intelligenza su il dato sottostante e dalla possibilità di essere più proattivi nel risolvere i problemi. E quindi anche lì abilitare una fase di ripresa e di rinascita del rapporto tra creditore e cliente. Miloni, da come ne parla? Sembra quasi una missione per lei più che un lavoro questa? Ma nella definizione di tutti i business esiste il capitolo della mission che non a caso condivide questo termine con il linguaggio. Deve e c'è nella nostra azienda un impegno reale di portare valore e di essere anche una forza di cambiamento e di migliorativo nel settore. Tra l'altro a proposito di valore, prima parlando mi spiegava che è possibile anche raddoppiare la valorizzazione del credito in questo modo. Quindi a maggior ragione la ringraziamo per il suo tempo e per il lavoro che fate perché è un aiuto per la società. Grazie a voi, è stato un piacere.